Benvenuti al nostro terzo dialogo con la scienza e buona domenica a tutti. È il nostro terzo incontro, come tutti saprete, è un progetto il nostro di Fondazione Cercolo dei Lettori, ma fortemente voluto e sostenuto da Novamont e con la collaborazione naturalmente del Comune di Novara, del Teatro Faraggiana e il patrocinio di ATL. Oggi dialogheranno in questo terzo nostro incontro Telmo Pievani, che è curatore della Rassegna e che già abbiamo ascoltato con moltissimo piacere ed interesse nel corso del primo incontro, e Marco Malvaldi, difficile da presentare per i ruoli. Diciamo che Marco Malvaldi, d'altro canto oggi il titolo della lezione è la manutenzione del pensiero, che Ben ha saputo coniugare in questa sua esperienza il pensiero scientifico, la cultura umanistica e la saggezza della cultura scientifica, un sapere straordinario e un connubio straordinario di cui oggi davvero saremo testimoni di oculati, di un ascolto un po' diverso forse da quello che abbiamo immaginato negli incontri precedenti. Io vi ringrazio e davvero auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Grazie Paola, buongiorno. Buongiorno a tutti anche da parte mia, ben ritrovati. Siamo al terzo incontro di questo ciclo di cinque domeniche autunnali, in questa domenica nebbiosa di novembre. Grazie di essere qui e aver riempito tutto il teatro Faraggiana perché spero, sono sicuro, ne varrà la pena perché Marco Malvaldi è un ospite a cui te ne amamo moltissimo, mi ho insistito fin dall'inizio perché potessimo averlo per tante ragioni. Paola ne ha già spiegata una per la sua particolare storia. Trovo molta affinità con lui perché siamo due ibridi tra scienza, io tra scienza e filosofia, lui tra scienza e letteratura e scrittura. ha iniziato una carriera a Pisa, se non sbaglio, proprio come chimico, con tutta la trafila, PhD, poi il postdoc, segno di ricerca e così via, e poi c'è stata una svolta verso la scrittura e la letteratura. Però noi l'abbiamo chiamato qui oggi perché non parleremo tanto forse di Malvaldi come scrittore, come giallista, ma come autore anche di libri che a me sono piaciuti molto, forse li trovate là, non ho neanche visto, ma insomma tipo la direzione del pensiero, credo sia l'ultimo che hai fatto su questo, ne avevi scritto anche uno prima su come pensa un chimico, gli architetti dell'invisibile, se non ricordo male, e cioè il lavoro che Marco Malvaldi ha fatto su questo titolo che abbiamo dato e che ho voluto dare a questo incontro, la manutenzione del pensiero. Perché abbiamo già visto nei primi due incontri che pensare il tema di questa rassegna, quindi la crisi ambientale, il climate change, quello che sta succedendo a livello globale, il ruolo dell'attività umane in tutto questo, il ruolo della scienza, della ricerca, della tecnologia, ne parleremo soprattutto nell'ultimo incontro, rispetto a questo scenario, è difficile. Ci sono molti studi che sono usciti su diverse riviste scientifiche di psicologia cognitiva o di neuroscienze, dove si vede molto bene che problemi come questi, sistemi complessi, non lineari, sono, si dice, controintuitivi, cioè non ci vengono facili da pensare. O, se volete, vogliamo dirle in un altro modo, ci sono delle scorciatoie del nostro pensiero, facili facili, che ci rendono difficile capire invece problemi di questo tipo. Ecco, Marco è un grande esperto di questo, ha scritto proprio libri sul pensiero e sulla manutenzione del pensiero. Quindi la prima domanda che ti faccio, Marco, è molto generale, è proprio su questo, cioè perché secondo te la nostra mente fa così fatica a capire, per esempio, le medie, cos'è una probabilità e, come hai scritto lungamente nell'ultimo libro, appunto, la direzione del pensiero, perché è così difficile capire davvero, per esempio, cosa sono i rapporti tra una causa e un effetto, che sembra qualcosa di così facile e intuitivo e invece è un ginepraio dal punto di vista logico e naturalmente è benvenuto in questa rassegna. Grazie, grazie Telmo, grazie a tutti voi, spero che si senta bene, grazie di essere così numerosi. Se fossi di fronte a gente educata come me, quindi poco, direi boia quanta gente, invece preferisco dire boia quanta gente. Allora, te hai introdotto, proprio hai detto, la parola magica che è facile. Il cervello dell'essere umano si è evoluto nel corso degli anni, per chi di noi crede all'evoluzione, per chi di noi non crede all'evoluzione, credo che questo sia un momento un po' troppo avanzato, c'è da fare qualcosa prima, per chi di noi crede all'evoluzione, il cervello dell'essere umano si è evoluto per cercare di rispondere probabilmente a stimoli imprevisti e lo ha fatto sviluppando euristiche, cioè cercando di rispondere a domande più facili di quelle che realmente ci trovavamo davanti. Noi ogni qualvolta effettuiamo un ragionamento, in realtà prendiamo delle scorciatoie, immaginiamo di immaginare nel futuro, di provare a capire nel futuro che cosa succederà a una persona. Per esempio, io adesso, la mia intenzione è quella di toccare Telmo Pievani. Ci riuscirò? Beh, sì, ma non è detto. Potrebbe arrivare un meteorite improvvisamente, potrebbe crollare il palco, un qualche cecchino appostato laggiù potrebbe sparare a uno dei due, preferibilmente eventualmente. Cosa succede? Io sto assumendo che il sistema Malvaldi-Pievani sia un sistema fatto solo da me e da lui. Non tengo conto automaticamente delle condizioni meteorologiche, di quelle strutturali del palco, di altri eventuali esseri umani. Semplifico in continuazione. E questo mi è necessario perché, se dovessi prendere e considerare tutti i dati che servono per valutare correttamente il problema, addio. Non avrei a disposizione tempo sufficiente per farlo. A volte questo può essere salvifico. È questa la fregatura. A volte l'ignoranza può essere letteralmente efficace. C'è stato un esperimento fatto anni fa da Gerd Gigerenzer, da uno scienziato cognitivo tedesco, che costituiva di questo processo. A un gruppo di studenti statunitensi venne chiesto se era più grossa la città di Detroit o la città di Milwaukee. La stessa domanda venne fatta a un gruppo di studenti tedeschi. È più grossa Detroit o Milwaukee? Allora circa il 70% degli studenti statunitensi rispose correttamente Detroit, ma il 100% degli studenti tedeschi rispose correttamente. A questo punto uno potrebbe pensare, ironizzare, dire allora gli americani sono i soliti ignoranti che non sanno... No. Gli statunitensi sapevano molte cose sia su Detroit che su Milwaukee, mentre gli studenti tedeschi a malapena sapevano che esisteva una città che si chiama Milwaukee. I più vecchiotti di loro si ricordavano Happy Days, mentre invece di Detroit sapevano moltissime cose. Tanto è vero che quando lo stesso esperimento venne fatto sugli studenti tedeschi chiedendogli se era più grossa, Bielefeld o Heidelberg? Molti risposero Heidelberg. Risposta totalmente sbagliata, è più grossa Bielefeld, solo che Bielefeld è una città industriale di rara bruttezza, se c'è qualcuno di Bielefeld mi scuso, ma è così, mentre Heidelberg è una città che ha una sua importanza storica e filosofica e molto più viva da un punto di vista culturale. Qual è il problema? Che gli studenti avevano sentito la domanda A qual è la città più grossa, Detroit o Milwaukee, e l'avevano tradotta in un'altra domanda. Di quale delle due ho sentito parlare più spesso? La domanda a cui viene, si risponde, è un'altra perché? Perché non abbiamo dati a disposizione. Noi siamo abituati a usare queste scorciatoie, molto spesso queste scorciatoie ci salvano la vita, però non è che il molto spesso sia sempre, primo, e secondo non è che l'ignoranza sia sempre salvifica. Acquisire un numero maggiore di dati, essere in grado di mettere in relazione questi dati con la domanda che veramente ci hanno fatto, è fondamentale. A questo punto si può iniziare veramente a usare il cervello in maniera corretta, ma prima di tutto dobbiamo renderci conto che il nostro cervello si è evoluto in modo tale da essere veloce, rapido, efficiente nel 90-95% dei casi, tanto per dare una percentuale. Dobbiamo preoccuparci del 10-5% perché è quello che potrebbe salvarci la vita o il futuro. Aggiungo solo queste cose che dicevi Marco, hanno proprio un significato evoluzionistico molto interessante, possiamo fare un altro molto semplice esempio per capire quali sono state le basi adattative di quello che tu hai detto. La radice di tutto questo è il fatto che noi vediamo da una lunga storia evolutiva in cui siamo state prede, non predatori. Il nostro problema non era cosa mangio oggi, ma vediamo di non farci mangiare oggi. Quindi immaginatevi di essere una preda, la preda è un animale che deve stare molto attento a qualsiasi segno potenzialmente minaccioso dell'ambiente circostante. Allora immaginatevi di camminare su un sentiero nella foresta, siete una preda, vedete un bastone rotto a metà. Quando una preda avviene un bastone rotto a metà gli scatta subito la migdala, la paura, la minaccia, perché potrebbe essere un predatore, anche se nel 90% dei casi magari è stata una tempesta, il vento è caduto, si è rotto naturalmente. Però rifletteteci, se io eccedo nella reazione della migdala, comunque mi proteggo, perché scappo a gambe elevate, comunque sia. Magari mi sbaglio, nella gran parte dei casi mi sbaglio, ma se invece è stato proprio un predatore, invece mi metto a pensare, a riflettere da filosofo e da scienziato, sono morto. Quindi i nostri antenati che facevano i filosofi e gli scienziati nel momento sbagliato non hanno lasciato discendenti e hanno lasciato discendenti invece quelli che scappavano a gambe elevate seguendo la migdala. Ovviamente, come dice giustamente Marco, questo adesso ci crea un sacco di problemi. Faccio solo questo esempio e poi ti faccio subito un'altra domanda. È stata fatta una ricerca qualche anno fa impressionante a New York da un gruppo molto forte di psicologi cognitivi e neuroscienziati. Il compito dato ai volontari era molto semplice. Era quello di sedersi, avevano davanti uno schermo e improvvisamente, senza nessuna preparazione, vedevano il volto di una persona appartenente ad un'etnia diversa dalla loro. Quindi ha un bianco, un afroamericano, viceversa e poi con tutte le combinazioni possibili. E nel frattempo gli hanno mappato cosa succedeva nel cervello. E la cosa incredibile è che appena arriva il volto di una persona diversa, parte la migdala, scatta subito insieme col giro fusiforme che è quello che ti permette di riconoscere i volti, immediatamente, come per dire, la prima reazione è chi è questo? Questo non è uno come me. Questo potrebbe essere una minaccia, un problema per me. Dopo un terzo di secondo, che nel cervello è un sacco di tempo, scattano le aree corticali che interagiscono con la migdala, come per dire, no, aspetta un momento, cerca di capire chi è. Ovviamente in alcuni politici è una parte della popolazione, la seconda parte non scatta direttamente. Questa è un'altra questione. Però è fantastico perché hanno visto proprio questo conflitto neurale, di cui parlavi tu adesso, tra pensiero veloce e pensiero lento, direttamente nel cervello. E la cosa curiosa, tra l'altro, è che se invece tu alle stesse persone fai vedere, per esempio, non so, a un bianco, un afroamericano, ma è un famoso giocatore di basket, un famoso cantante, la migdala se ne sta tranquilla. Quindi vuol dire che la cultura comunque educa, no? Comunque ci plasma il nostro cervello. Volevo, adesso Marco, entrare proprio, facciamo un esempio che riguarda anche il tema di cui parliamo oggi. Ti faccio i primi due che mi vengono in mente. Leggiamo sul giornale, l'anno scorso, mi pare che sia stato proprio l'anno scorso, abbiamo avuto in Italia un maggio molto piovoso e freddo. È colpa del riscaldamento climatico. Uno dice, ma come? Un maggio freddo e piovoso è colpa del riscaldamento climatico. Come fai tu a spiegare una cosa del genere con un buon ragionamento? Oppure, ti faccio un altro esempio, tempesta vaia, devastazione, perché? Ebbè, perché si sono create delle condizioni molto particolari, è colpa del riscaldamento climatico. Questi tipi di connessioni che sono corrette, però noi sappiamo sono molto difficili perché sono non lineari. Come faresti tu con la tua arte narrativa a spiegarle bene? Beh, allora, proviamo a capire innanzitutto che cosa significa non lineare. Il non lineare significa, in matematichese significa che c'è una relazione non lineare, cioè che va come una potenza diversa da uno fra i dati di input e i dati di output, ma detta così non è che interessi a nessuno. L'esempio più migliore che mi viene in mente è questo. Se prendete una aspirina, avete il mal di testa e prendete una aspirina, vi passa il mal di testa. Sul pacchetto c'è scritto prendere una aspirina, al massimo tre a giorno intervallate da un intervallo di sei ore. Se prendete una aspirina vi passa il mal di testa. Se prendete mezza aspirina, vi passa un pochino il mal di testa. Se prendete un'aspirina vi passa totalmente il mal di testa. Quanti di voi prenderebbero dieci aspirine? Nessuno. Perché? Perché se prendeste dieci aspirine andeste incontro a una condizione molto molto spiacevole, una mancata efficacia di coagulazione del sangue che vi porterebbe al decesso nel giro di poco. È la cosiddetta morte di Bruce Lee, perché il famoso attore e artista marziale Bruce Lee è morto proprio a causa di una ulcera perforata da eccesso di antidolorifici. Perché succede questo? Se ci ragioniamo un attimo a livello lineare, ne prendo mezza? Passicchia. Ne prendo una? Passa. Boh, ne prendo dieci? Passa subito. Questo è un ragionamento lineare. È lo stesso ragionamento che facciamo quando abbiamo avuto un maggio freddo e umido è colpa del riscaldamento globale. Noi pensiamo, ma come? Se riscalda dovrebbe aumentare la temperatura. Perché succede questo per esempio al nostro corpo? Perché il nostro corpo è un ente complesso, è fatto da diversi organi. Abbiamo uno stomaco, un cuore, un cervello, quasi tutti noi, degli intestini, muscoli e tutto quanto. E ognuno di questi ha una reazione diversa, con tempi diversi, ai farmaci che introduciamo. Anche lo stesso nostro sangue, noi diciamo il sangue, in realtà è fatto da globuli rossi, globuli bianchi di diverso tipo e da tanti altri componenti. Ogni qualvolta vediamo un sistema complesso, cioè un sistema fatto da più parti, la non linearità è sempre in agguato. E non lineare significa se ne prendo un pochino aumenta, se ne prendo un po' di più poi cala, poi comincia a diminuire bruscamente e poi a un certo punto riparte. Quindi la cosa più stupida che possiamo fare è lineare. Facciamo un esempio clamoroso per capirlo. Cosa vi direste voi se io vi dicessi che io conosco un farmaco che è in grado di far riprendere le persone dagli effetti del covid, del long covid? Se siete maschi vi riprendete in meno tempo, se siete femmine vi riprendete in meno tempo, altrimenti vi riprendete in maggior tempo. Se siete maschi funziona, se siete femmine funziona, altrimenti funziona peggio. Mi direste che sono di fuori? Allora immaginiamoci questo. Immaginiamoci il classico grafico. In alto mettiamo il tempo che ci mettiamo a riprendersi dal covid, quindi più in alto male, più in basso bene. E in ascissa, sull'asse orizzontale, mettiamo la quantità di farmaco che prendiamo. Prendiamo le donne. Le donne, si sa, sono meno prone agli effetti di un'alta temperatura, sono un pochino meno lamentose di natura, quindi prendono meno farmaco e ci mettono meno tempo a riprendersi. Quindi vedremo una più o meno retta che fa così. Più farmaco prendo, meglio mi riprendo. E vediamo questa retta fatta da tanti puntini. Poi andiamo sugli uomini. Gli uomini notoriamente sono più lamentosi, sono più proni. Fra l'altro uno degli effetti bellissimi del covid per noi maschi è che avevamo ragione noi. 37 e mezzo è febbre, devi stare 15 giorni in casa. Quindi i maschi sono più grossi, sono più pesanti, prendono più farmaco, li troviamo qui, e ci mettono più tempo a riprendersi. E vediamo questa retta che fa così. Questa retta e questa retta, questa retta e questa retta. Se prendo i due gruppi separati, le donne ci mettono meno tempo a riprendersi, gli uomini ci mettono meno tempo a riprendersi. Ma se prendo i due gruppi insieme, quello che ottengo è uno spiedino, la cui direzione della retta che interpola i dati va nella direzione opposta. Quindi se prendo il gruppo donne fa bene, se prendo il gruppo uomini fa bene, se li prendo insieme fa male. Questo è noto in statistica come paradosso di Simpson, cioè si ottengono a volte andamenti opposti a seconda del fatto che io prenda gruppi di persone oppure la totalità della popolazione. Questo, una volta che è noto il paradosso di Simpson, però scatta un altro problema, che è quale dei due è giusto? Cioè, sono le donne, il farmaco fa bene o fa male? Devo prendere i gruppi o devo prendere la media? E la risposta è dipende dal problema. Dipende da quale dei due, da quale agente è la causa e quale è l'effetto. Il che ci dice una cosa molto importante della quale parleremo credo diffusamente. I dati, i soli dati numerici, anche laddove precisissimi, non bastano. Per analizzare la realtà, per capire la realtà, è necessario un modello, è necessario immaginarsi un meccanismo che secondo noi è responsabile di quei dati. Altrimenti, quando troviamo casi come il paradosso di Simpson, siamo nel casino. E lo abbiamo visto. Se confrontiamo i dati di mortalità Italia-Cina del Covid, per qualsiasi fascia d'età la mortalità italiana è più bassa di quella cinese. Ma se prendiamo il totale della popolazione, la mortalità cinese è più bassa di quella italiana. Ora, cosa significa? Qual è il dato giusto da prendere? In questo caso è abbastanza facile da capire, perché c'è un rapporto di causa-effetto preciso. Lo Stato causa la demografia. Se vivi in Cina, hai probabilmente un'età media più bassa. L'età media cinese è di 38 anni, l'età media italiana è di circa 47. Sono nove anni, che una decade in termini di Covid ha molta, molta importanza. Quindi la popolazione italiana è in media più vecchia. Sappiamo che il Covid ha un effetto maggiore in termini di letalità sulle popolazioni anziane e quindi in questo caso la spiegazione è abbastanza facile. In altri casi dipende. Quindi perché appunto è difficile capire queste cose? Perché noi siamo abituati a pensare spesso in maniera lineare, a dire da qui a qui traccio una linea e vado. No, non funziona quasi mai così e quando funziona così potrebbe essere una trappola. Quindi è sempre bene chiedersi innanzitutto, primo attrezzo del pensiero, è un organismo semplice o complesso? Sto guardando un qualcosa di omogeneo o è diviso in gruppi? Questa è la prima domanda che ci si deve fare. E da qui si parte e si cerca di capire. Esatto. Oppure si può anche tentare un'altra strada che comunque è difficile, cioè cerchi di spiegare il meccanismo che un maggio freddo e piovoso è controintuitivo che sia legato al riscaldamento climatico perché il riscaldamento climatico aumentando la temperatura media in circolo modifica le correnti alte d'atmosfera. Quindi e quindi e quindi e quindi alla fine arrivi a un maggio freddo e piovoso in Italia. Quindi questi meccanismi. Tanto la cosa che dicevi sui farmaci è anche una cosa molto sedia. Per esempio negli Stati Uniti adesso c'è un forte dibattito sul fatto che alcune case farmaceutiche hanno messo l'etichetta razziale sui farmaci. Dicono guardate questo va particolarmente bene per la razza afroamericana. Ah questo è un farmaco molto indicato per la razza cinese. Ovviamente è una truffa nel senso innanzitutto le razze, già il concetto di razza umana non esiste, ma c'è proprio il trucco qual è? Siccome sappiamo che negli afroamericani c'è una leggera variazione statistica nel per esempio tempo di assimilazione di certi farmaci o meno ci mettono questa etichetta, ma in realtà l'appartenere a quel gruppo è semplicemente una delle tante variabili legate all'effetto di quel farmaco. Quindi questi trucchi li usano anche per truffarci e per fare marketing. Prima di arrivare alla questione dei dati volevo chiederti un altro passaggio che è quello che riguarda le medie e la probabilità, che è molto molto difficile da capire. Ti faccio la domanda facendo già un esempio classico, sono curioso di vedere come ci suggerisci perché a me capita spesso di doverlo affrontare. Immaginate un calciatore bravo, un bravo attaccante tuo mitico del Torino. Belotti. Belotti, ok. Belotti fa quanti gol fa mediamente a stagione? Questa è una domandaccia, mettiamo 20, vogliamo essere buoni. Belotti fa, che tra l'altro è bergamasco, quindi Belotti fa 20 gol a stagione. Domenica prossima Belotti fa gol. Il fatto che lui faccia 20 o 30 gol a stagione è la causa del fatto che domenica prossima o domenica scorsa, non importa, ha fatto gol? Perché è la stessa cosa di vaia e del riscaldamento climatico, cioè l'evento puntiforme rispetto a una media. E questo è proprio il punto. La causa e l'effetto rispetto a una media. Cioè, sono le statistiche di Belotti che portano Belotti a fare gol la prossima settimana o è il fatto che Belotti faccia gol spesso che forma la statistica? Evento puntiforme e evento e media statistica sono due cose differenti, ma quello che dobbiamo ricordarci sempre è che in questo caso la risposta è molto facile. Evento puntiforme, il gol di Belotti, evento statistico, la media. In questo caso è abbastanza facile, sono gli eventi puntiformi che portano alla media. facilissimo. In altri casi non è così facile. Per esempio, supponiamo, prendo il caso di un attaccante del Torino, Rolando Bianchi. Rolando Bianchi nella stagione 1998-1999 gioca nella Salernitana e fa 23 gol in campionato capo cannoniere. Si viene contesso da varie società italiane, va a finire alla Lazio, fa tre o quattro stagioni da sette, otto gol. Sette, otto, nove, dieci. Viene acquistato dal Torino, fa delle stagioni da dieci gol, dieci o nove, undici. Cos'è successo? È diventato improvvisamente un brocco. No. Il fatto è che la probabilità di fare un certo numero di gol a stagione cambia. Non è che uno è un automa che fa 20 gol quest'anno, 20 gol l'anno, 20 gol, e così via. Tutti gli anni 20 gol, né uno di più né uno di meno. È distribuita con una specie di campana. Quindi la maggior parte degli anni fa 20 gol. In alcuni anni ne fa 18, in alcuni ne fa 22. Prendiamo un attaccante che come media, come il buon Rolando Bianchi, fa 10 gol l'anno. Beh, qual è la probabilità che ne faccia 23 in una stagione? Uno potrebbe pensare zero, ma non è così. Se uno segue la curva campana, c'è, diciamo, una probabilità su 30 che faccia 23 gol in una stagione. Allora cosa succede? Noi abbiamo in campionato italiano 10-15 attaccanti medio-bravi che fanno 10 gol a stagione. La probabilità che ci sia un attaccante che in una stagione fortunata, particolarmente fortunata, tra questi 10-15 fa un numero di gol superiore a 20 è praticamente uno. Cioè è praticamente certo che se io prendo 10-15 attaccanti medi da 10 gol e li seguo durante una carriera da 10-15 anni, sono sicuro che uno, una volta, meglio sono sicuro, ho una probabilità molto vicina a uno di vedere che uno di questi in una stagione particolarmente fortunata fa 20 gol o più. Qual è il casino in questo in questo tipo di ragionamento? Che stiamo confrontando due statistiche, che stiamo confrontando due distribuzioni statistiche diverse. A questo punto dobbiamo per forza, per chiarirci le idee, incominciare a parlare di cause e conseguenze e non di semplici correlazioni. Perché? Dobbiamo incominciare a ragionare, come diceva Telmo, sul meccanismo. Quello che ci interessa non è capire la statistica, perché la statistica è un qualcosa di meramente descrittivo. Non mi aiuta a capire la realtà, mi aiuta a vedere delle correlazioni. Se io non sono in grado di mettere un meccanismo sotto queste correlazioni, non sono in grado di fare un'operazione molto importante, che è l'operazione di intervento. E anche qui facciamo un esempio. Correlazione. Io vi dico che c'è una correlazione fortissima fra il numero di ettari di boschi che vengono incendiati ogni anno e il numero di gelati che vengono venduti nello stesso periodo di tempo. Se guardiamo settimana per settimana il corso dell'anno, quando si vendono più gelati ci sono più ettari di boschi che vanno in fumo. Più gelati vendo, più boschi vanno bruciati. È una correlazione lineare molto forte. A questo punto cosa potrei pensare di dire? Soluzione A. Nei gelati c'è un pericolosissimo agente psicotropo che rende l'acquirente, il degustatore, un piromane. E io dico no caro collega, la spiegazione è un'altra. Il piromane dopo aver appiccato il fuoco sente bisogno di rinfrescarsi e quindi si reca nel vicino chiosco per acquistare un bel ghiacciolo. Quindi potrei convincermi, uno dei due si potrebbe convincere che bisogna proibire la vendita dei gelati per salvare il nostro patrimonio forestale, qualcun altro invece potrebbe dire no mettiamo dei guardi a boschi e li mettiamo, mettiamo dei poliziotti a caccia di gente che si compra otto gelati perché quelli sono i piromani. Tutti e due stiamo fraintendendo che c'è una causa comune, si chiama estate. In questo caso abbiamo una correlazione ma non una causalità e questo significa che se io proibisco di vendere i gelati oppure arresto la gente che esce dal supermercato con una confezione da 16 di ghiaccioli non ottengo nessun risultato. Cioè ho avuto una descrizione, la descrizione è valida ma non sono in grado di intervenire. Se si parla di cambiamento climatico, se si parla di pandemie non me ne frega niente di descrivere la situazione. Quello che veramente mi interessa è intervenire, fare qualcosa affinché non. E in questo caso dire, mostrare delle correlazioni, andare a caccia di correlazioni senza un meccanismo che giustifichi queste correlazioni e che sia falsificabile, è assolutamente privo di senso. È un altro esempio che abbiamo vissuto tutti, se ne parla ancora adesso, è vero o no che c'è una correlazione tra l'inquinamento dell'aria e la diffusione del covid e gli effetti del covid? Se ne è parlato molto, no? Lì è ancora, ti chiedo questa cosa, lì è un'altra differenza ancora più sottile, nel senso che se io vedo che c'è una correlazione, il fatto che nelle aree più inquinate d'Italia il covid ha picchiato di più, potrebbe essere o una correlazione, una causa diretta, quindi il fatto che, non so, il covid, il virus è veicolato meglio dal particolato nell'aria, cosa sarebbe piuttosto strana mai verificata, oppure potrebbe essere che chi vive in aree inquinate ha comunque i polmoni già più sofferenti, più vulnerabili, più deboli e quindi il virus diventa una concausa. In quel caso lì è una correlazione indiretta quella che tu hai visto, no? Io a questo punto mi faccio questa domanda, mi costruisco un meccanismo mentale, il mio meccanismo mentale è cosa hanno in comune le aree particolarmente inquinate e le aree particolarmente colpite dal covid? Potrebbe essere la popolazione, più persone vivono in una determinata zona, più quella zona è inquinata, perché ci sono più automobili, ci sono più riscaldamenti, ci sono più oggetti. Allo stesso tempo più persone vivono in una determinata area, maggiore la densità di popolazione, quindi minore la distanza fra persone, maggiore la possibilità di interazione sociale che causa contagio. Quindi sono in grado di costruirmi un modello, densità di popolazione inquinamento, densità di popolazione contagio e di mettere o non mettere una freccia che va da inquinamento contagio o da contagio inquinamento. E la cosa bella è che con i dati a mia disposizione posso falsificare questo modello, cioè posso dire se io metto semplicemente un modello che non prevede una relazione fra inquinamento e covid, ma metto solo la causa comune, cioè densità di popolazione, inquinamento e covid, vado a verificare se questo modello soddisfa il cosiddetto criterio di indipendenza condizionale, cioè faccio un conto matematico sulle probabilità. Se soddisfa questo modello vuol dire che il modello è vero? No. Vuol dire che non ho bisogno di aggiungere altre frecce per rappresentare bene questa situazione. Cioè vuol dire che non c'è nessun bisogno di mettere una freccia aggiuntiva perché questa correlazione è già spiegata da una causa comune. Quindi non sono riuscito a falsificare il mio modello. Viceversa, molto probabilmente, qui bisognerebbe fare i conti, se io mettessi il modello con inquinamento, covid o covid inquinamento, molto probabilmente io mi aspetto, per quelle che sono le mie conoscenze, ma potrebbe anche essere di no perché non ho fatto il conto, ma mi aspetto che questo modello verrebbe falsificato. E a questo punto dico ok, questo meccanismo è sbagliato. Una delle tre frecce è sbagliata. Anche qui facciamo un'operazione di pensiero, cioè fondamentalmente cerchiamo quella che è la spiegazione più semplice possibile. E questo viene dalla cara vecchia filosofia. Questo è un tema che io e Telmo credo abbiamo caro perché ci torniamo sopra in continuazione. I dati senza il pensiero non hanno quasi significato o possono avere un significato fuorviante. Molto spesso quando andiamo a ragionare sui dati e troviamo delle ricette che funzionano, ci accorgiamo che vengono dalla cara vecchia filosofia. In questo caso quello che applichiamo è il cosiddetto rasoio di Ockham, cioè prendi la spiegazione più semplice che è sufficiente a spiegare il fenomeno e non complicarla oltre. È 1300? Ecco, eravamo già abbastanza avantino. Quindi non mi stancherò mai di ripetere, se qualcuno, e questa è una cosa che si sente dire poco secondo me, se qualcuno vi dice ah io sono un filosofo, non mi intendo di numeri e di dati, abbiamo visto dei filosofi che l'hanno fatto in maniera clamorosa, o qualcuno vi dice io sono un data science, io non faccio filosofia, il mio invito è di dubitare fortemente perché il ragionamento incompleto è una delle cose più pericolose che possiamo fare. È plausibile, accattivante, culturalmente eleva il nostro spirito a livelli e potrebbe essere sbagliato. Assolutamente. Rimango su questa questione dei dati che ci sta a cuore e che è la nostra vita quotidiana, se ci pensate bene. Adesso l'esempio che facevi tu, Marco, è un esempio fantastico di come funziona il metodo scientifico, cioè di cosa succede immediatamente prima di quando uno scienziato viene interrogato in televisione per spiegare appunto il significato di una correlazione. Il mestiere che dovrebbe fare è questo, confrontare ipotesi, quelle frecce, escludere una freccia, principio di parsimonia che è questo, cioè quindi decidere che valutare il modello più semplice che non richiede l'aggiunta di ulteriori fattori e parametri. Però non è così facile, un po' perché diciamo oggi molti campi di studio nostri sono letteralmente sommersi dai dati e ci mancano le persone che si interrogano su questi dati, no? Ci mancano le domande di ricerca, come si dice. Nel mio campo è la bioinformatica, questo è fortissimo. Esce un sacco di roba, un sacco di paper, anche su riviste molto importanti, dove non c'è una domanda di ricerca. C'è solo il dato puro, grezzo. Ma a me, come filosofo della scienza, la prima cosa che ti insegnano è guarda che il dato da solo non parla mai, no? Il dato vergine non c'è mai, c'è sempre una domanda che tu hai fatto. Il dato è sempre una risposta a una domanda che tu hai fatto. E poi se sei corretto dovresti modificare la tua risposta in base al dato che hai ricevuto. Poi c'è un problema aggiuntivo che ha complicato un po' le cose. Durante la pandemia è esploso questo fenomeno della immissione, della condivisione tra gli scienziati di dati non ancora revisionati, no? Buttati negli archivi anche con una buona intenzione, cioè io li butto lì perché così li condivido subito con te senza evitare tutto il processo di revisione. Però poi è successo tante volte che i giornalisti andassero a prendere direttamente quei dati che erano in un archivio diciamo provvisorio e li prendessero però roccolato e dicessero che erano un dato definitivo e già interpretato. Tu ti chiedo questa cosa dal punto di vista questa volta dello scrittore, del comunicatore. Come si fa a comunicare questa quanto è difficile lavorare sui dati e formulare modelli e ipotesi quando poi sei in una situazione di ansia, di emergenza come la pandemia? Tutti vengono esposti a questi dati e non tutti, dobbiamo essere sinceri, i nostri colleghi scienziati sono stati bravi nel comunicarli nel modo giusto, cioè nel dire guardate questo è quello che sappiamo fino adesso, questo è un'interpretazione, lasciateci lavorare perché ancora non sappiamo qual è la spiegazione, eccetera, eccetera. Cioè fare vedere questo lavorio del metodo scientifico che per me è fondamentale quando comunichi la scienza. Beh, questo è una delle cose in assoluto più difficili da fare. Premettiamo questo perché c'è un motivo se uno ci mette cinque anni per laurearsi in chimico e in biologia, tre per fare il dottorato di ricerca, quattro per ottenere un phd, cioè non è che siamo andati lì a giocare a carte, non sempre, siamo andati lì a giocare a carte, talvolta lo abbiamo fatto. Però è nostro dovere spiegarlo e secondo me il modo più sicuro, anche se non privo di rischi, è sempre quello della metafora, è sempre quello della similitudine, è sempre quello di tentare di parlare, di spiegare, trovando un esempio della vita quotidiana che si attagli a quel particolare fenomeno. Attenzione, anche qui questa è un'operazione rischiosa, molto rischiosa perché è come se si comporta come se serve per far capire, non serve poi per lavorarci sopra, quindi in questo senso è un'operazione pericolosa. Mi spiego. Il mio telefonino, se lo lascio cadere da 10 centimetri da un metro da terra, si comporta come un sasso, cade e va giù. Quindi il mio telefonino è un sasso. Oppure posso usare un sasso per telefonare? No. La similitudine serve per spiegare alle persone un particolare aspetto, un particolare comportamento di quel fenomeno, ma non può essere usata la similitudine poi per fare ipotesi di lavoro, per poi andare a misurare il campo elettromagnetico dei sassi e cercare di capire per quale motivo il sasso non prende in determinate situazioni e per come comunicare con un sasso. L'unico modo che posso usare per comunicare con un sasso, esattamente, è quello lì, tirarlo in testa a chi ha fatto una metafora così balzana. Però una volta detto questo e una volta messisi d'accordo sul fatto che potrebbe non essere etico, fare similitudini, trovo che il metodo più corretto sia questo. Però c'è un metodo a mio giudizio ancora più corretto una volta che si siano trovate le similitudini ed è quello di rivoltare la frittata. Immaginiamo di trovarci di fronte a una persona che sta parlando di vaccini e non sa niente di vaccini. È il primo esempio che mi viene in mente, non so perché mi è venuto in mente, è un qualcosa... Un filosofo, un filosofo preso a caso. Un filosofo preso a caso, vabbè. Beh, proviamo a non farlo parlare, o meglio, proviamo a farlo parlare parecchio, ma facendogli delle domande, cioè non chiedendogli secondo lei cosa succederà, ma chiedendogli mi spiega come funziona un vaccino? Per cortesia, nel dettaglio, mi spiega come funziona? Facciamo un esempio, anche qui, come funziona una cerniera lampo? Lei lo sa? Lei è troppo sincera, signora. Che voto vi dareste mediamente nel dire come funziona una cerniera lampo? Sopra o sotto la sufficienza? Sopra, benissimo. Chi ha detto sopra? Perfetto. Come funziona una cerniera lampo? Eh, ma voglio che tu me lo spieghi. E per magia si interseca, no? Attraverso un meccanismo che le chiude come? Come fa? È elettromagnetico? È meccanico? Ecco. Allora... Però ci ha pensato. Però ci ha pensato. Vedi? Piano piano. Allora, innanzitutto togliamo il dubbio. La cerniera lampo funziona con un meccanismo molto semplice. La cara vecchia leva. Sono due uncini fatti a L che, come giustamente diceva il nostro ospite, si interseca l'uno l'altro. È possibile separarli e quindi smontarli e rimontarli, farli intersecare e separarli perché ci sono due... C'è un meccanismo fatto a imbuto, semplicemente un imbuto che costringe questi uncini in uno spazio più stretto e grazie al principio della leva, fa forza e li costringe a mettersi l'uno sull'altro così, sempre lasciando un piccolo spazio, una piccola, un piccolo, un piccolo, una piccola separazione spaziale. Quindi non si intersecano completamente ma rimangono così. Poi c'è un cuneo nella parte superiore che quando abbassiamo la zip si inframmezza fra la parte destra e la parte sinistra e sempre grazie al principio della leva riesce a separarli. È difficile spiegare come funziona una cenera lampo, sei stato anche troppo bravo, devo dire. Ma se andiamo sui vaccini, figuriamoci, quindi molto spesso, qui c'è fra l'altro un libro bellissimo che ne parla e che si intitola Sloman e Fernbach, aiuto. Adesso mi verrà in mente fra trenta secondi e quindi lo dirò. Ed è l'illusione della conoscenza, si intitola, l'illusione della conoscenza. Ed è dato dal fatto che noi molto spesso pensiamo usando oggetti di cui ignoriamo il funzionamento. Cioè noi usiamo in continuazione oggetti sia mentali, sia pratici, sia fisici, meccanici, elettromagnetici, di cui ignoriamo il funzionamento. Noi usiamo in continuazione il frutto del pensiero di qualcun altro, che è servito per progettare scarpe, per costruire cellulari. Io so usare benissimo il touchscreen, ma non so progettare un touchscreen. Vi potrei spiegare, per esempio, come funziona un touchscreen alla brosa, ma non saprei costruirne uno mai e poi mai. Quindi, secondo me, c'è anche da chiedersi, da dirsi questo. Oltre a cercare di capire come, per la cosa più onesta che possiamo dire a chi cerca di capire veramente i dati è studia, leggi, parti dalle basi, formati una conoscenza. Io ti posso dare delle metafore, ti posso dare delle similitudini, ma ti invito a non usare queste similitudini come strumenti di lavoro. Mi servono solo affinché tu ti convinca, non affinché tu le usi. È un'operazione difficile e talvolta proprio poco, appunto, può rivelarsi poco etica. Quindi io volutamente svicolo a questa domanda perché non è facile, ma è necessario. Quindi, ripeto, metafore, similitudini sempre col caveat. Occhio, questa è una similitudine. Nessuna ipotesi scientifica è stata maltrattata per darti questa similitudine. Però non è conoscenza, è una spiegazione, è diverso. Certo. Ti faccio un'ultima domanda, poi intanto preparatevi voi, se ci sono poi i microfoni che possono essere distribuiti, in modo che, insomma, preparatevi, perché abbiamo tempo anche perché possiate interloquire direttamente con Marco Malvaldi. L'ultima che ti faccio è un po' una conseguenza di tutto quello che già hai detto, cioè spiegaci che cos'è dal punto di vista scientifico una previsione. Cioè quando uno scienziato arriva e vi dice guardate, succederà questo, che cosa ci sta dicendo? Oppure quando sul clima ci dicono guardate, arriveremo a un grado e mezzo, arriveremo a due gradi, che cosa vuol dire? Perché ci dobbiamo fidare di una previsione scientifica? Allora, innanzitutto appunto diciamo che cos'è una previsione. Una previsione da un punto è sempre, riguarda sempre l'ambito scientifico di cui parliamo. Se voi mi chiedete in maniera esatta che cosa succederà fra un giorno, un'ora, un mese, una settimana o siamo nel campo della meccanica classica, cioè palle che rotolano su piani inclinati o oggetti che si deformano e anche lì dobbiamo stare attenti, io posso darvi una risposta. Laddove invece si parla di enti complessi si parla sempre di probabilità, cioè quando io dico fra vent'anni, trent'anni, se non facciamo niente, la temperatura terrestre aumenterà di un grado e mezzo, significa sulla base di quello che ho capito, sulla base di quello che è la migliore interpretazione della realtà che abbiamo a disposizione, lo scenario più probabile, se non cambia niente, è che avverrà questo. Il che non significa che questo avverrà, significa che è la previsione migliore che posso fare. Anche qui immaginiamoci, tanto per dare un esempio, immaginiamoci un calciatore, un Erling Holland, che fa 26 gol nel suo primo anno di allievi, 26 gol nel suo primo anno di juniores e continua a migliorare anno dopo anno e vediamo che i suoi dati, le sue caratteristiche biometriche crescono, il ragazzo cresce e diventa sempre più forte, le sue prestazioni diventano sempre più forti e io compro Erling Holland dicendo beh, mi aspetto da lui almeno tra i 20 e i 30 gol in un campionato di prima fascia. Questo non significa che Erling Holland farà tra i 20 e i 30 gol nel suo primo campionato di prima fascia. Cioè è una previsione, è quello che io mi aspetto che succeda sulla base del miglior modello possibile che finora ho trovato. Se non succede quello che ho detto, tu non sei in alcun modo autorizzato a dire hai sbagliato, perché la mia premessa era occhio, questa è una probabilità. Non sono in grado di darti una certezza, non sono in grado di darti una previsione. Questo è molto importante perché innanzitutto ti do, ti devo, una previsione a senso solo se prendo un, diciamo, un intervallo di dati piuttosto abbastanza ampio e un intervallo di tempo abbastanza ampio. In secondo luogo la previsione, la previsione specialmente nel campo del cambiamento climatico non è un qualcosa che, diciamo, possiamo, appunto, su cui possiamo controbattere sulla base di dati puntuali. Cioè dire oggi è un giorno particolarmente, un febbraio, è stato un febbraio, un maggio particolarmente freddo e piovoso, quindi il cambiamento climatico non esiste, è, perdonatemi il francese, una stronzata colossale. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che lo scienziato che fa una previsione sta dando una probabilità e una probabilità non può essere smentita da un controesempio. Cioè non possiamo dire non è successo quello che dicevi, quindi hai sbagliato. Perché a questo punto lo scienziato mi dirà per cortesia mostrami il tuo modello e mostrami le tue previsioni. Non voglio sentirmi dire hai sbagliato. Voglio sentirmi dare una previsione, cioè voglio che tu discuta con le regole della scienza. Voglio che tu mi dia una previsione e che tu mi dica come l'hai ottenuta. Perché questo è estremamente importante. Combattere uno scienziato che parla di probabilità a controesempi è, diciamo, vi dà una facile vittoria dialettica ma una sconfitta, sconfigge a livello globale sia chi parla che chi ascolta. Questo è estremamente importante. Infine c'è un ultimo aspetto che vorrei sottolineare. E questo è molto importante. Una delle regole che si dovrebbero sempre seguire nei dibattiti scientifici, in generale nei dibattiti, è quello di parlare di questione di cose e non di questione di persone. Cioè, al momento in cui la persona X dice questo, cerchiamo sempre di estrapolare cosa sta dicendo la persona e non chi la sta dicendo. Noi siamo molto bravi come esseri umani a sostituire la questione di cose e le questioni di persone. Ma quando delle persone stimate dicono delle cavolate, sono delle cavolate. Nessuno è immune dalle cavolate. Insigni premi Nobel hanno detto delle cavolate mostruose. Me ne ricordo uno in biologia non troppo tempo fa, mi sembra James Watson, che disse che geneticamente le popolazioni di pelle nera erano inferiori, usò questo termine, inferiori e più stupidi dei bianchi. James Watson, premio Nobel per la biologia, credo gli sia stata ritirata la medaglia o roba del genere. Ecco. Giustamente. Giustamente. Ecco, ma questo non è il primo e l'unico caso. Lo scopritore, lo sviluppatore della PCR, Carrie Mullis, credeva nei viaggi astrali, nella possibilità di muovere il proprio corpo con il potere della mente. Carrie Mullis era un serissimo biologo, ha vinto un meritatissimo premio Nobel per la chimica, era anche una persona che faceva uso di sostanze psicotrope, diciamo, non di rado. E disse che il virus dell'AIDS non esiste. E disse che il virus dell'AIDS non esiste. Così come altri premi Nobel hanno detto le cappelle mostruose. Ecco, ragioniamo, cerchiamo di ragionare su quello che viene detto e non su chi lo dice. Recentemente alcuni, un paio di filosofi hanno detto che il vaccino non aveva alcun effetto perché negli ospedali inglesi, su 50, su 117 morti, 50 erano vaccinati. Questa è una trappola mostruosa che si chiama trappola della probabilità condizionale. Perché? Su 117 morti, 50 sono vaccinati, il che significa che ci sono 117, ci sono 67 morti non vaccinati. Primo. Secondo, qual era la percentuale di popolazione vaccinata tra quelli a rischio? Al momento, quando è stato preso questo dato, la popolazione a rischio in Gran Bretagna, quindi over 60 vaccinata, era sopra il 90%. Quindi significava che avevamo avuto, se prendiamo un milione di persone, 60 morti su 900 mila persone, 50 morti su 900 mila persone, oppure 67 morti su 100 mila persone. Quindi vaccinarsi, diciamo su questi dati, dava in realtà una probabilità di scamparla che era di circa 10 volte superiore rispetto a quella. Qual è stato l'errore in questo caso di chi ha fatto questo ragionamento? È stato il cosiddetto errore della probabilità condizionale. Cioè, che probabilità c'è che se piove il mio giardino è bagnato? 100%? Direi di sì. Che probabilità c'è che se il mio giardino è bagnato abbia piovuto? 100%? No, potrei aver annaffiato. Ecco, in questi casi la probabilità che hanno usato, le due probabilità, se ci fate caso, sono differenti. La probabilità che io abbia l'ombrello se piove è diversa dalla probabilità che piova se ho l'ombrello. Anzi, sono molto diverse di solito. In questo caso i due hanno usato la probabilità che se morto allora vaccinato. Che se passato, che se futuro allora passato. Vedete già da voi che c'è una discrasia. Mentre invece la probabilità giusta da usare è quella se vaccinato allora morto. Ci deve essere una direzione che va dal passato al futuro. Una delle poche cose che sappiamo sulla causa è che il futuro non può causare il passato, a meno che non siamo in un film di Christopher Nolan. Quindi, in questo caso, quello che hanno fatto i due filosofi è stato un errore elementare. Cambi di usare la direzione sbagliata. E, grazie a semplici argomentazioni di tipo probabilistico, è stato possibile dimostrare che i due filosofi, uno dei quali dice sovente delle cose intelligenti, in questo caso hanno detto una paurosa cappella e quindi avevano torto. Ragioniamo su quello che dicono le persone e non su chi lo dice. È in assoluto la prima regola da ricordarsi ed è un errore che io stesso faccio in continuazione. Bisognerebbe averci una sveglia che dice, occhio, copri con la faccia, copri e usa un distorsore e ragiona solo sui contenuti. Non è facile. Grazie, ringrazio molto. Adesso è il momento per le domande da parte vostra. Visto che, intanto che alzate la mano e vi prenotate, visto che è esattamente lo stesso esempio e io eticamente penso sia il dovere di ricordarcelo sempre, esattamente sulla base di quello che vi ha spiegato adesso Marco Malvaldi e su quello che noi conosciamo oggi sulla probabilità di morire per sintomi severi di Covid da non vaccinati o da vaccinati, se non ci si vaccina avete 30.000 volte più probabilità di morire di Covid, ok? Non ci sono altre storie rispetto ai rischi dal vaccino. Avete 30.000 di tutti i vostri amici che non si vaccinano di morire di Covid. E quindi questa è una cosa molto importante anche perché, ancora una volta sul piano etico, oggi si sta discutendo molto di cosa fare nelle prossime settimane, interventi ulteriori restrittivi. Chi va in terapia intensiva perché non si è vaccinato, si dice sempre se l'è cercata, però il Servizio Sanitario Nazionale deve pagare le spese, io sono totalmente d'accordo perché abbiamo un sistema universalista. Però non si ricorda mai l'altra parte della storia. Chi va in terapia intensiva perché non si è vaccinato, sta prendendo il posto di qualcuno, magari malato di cancro, che poteva andarci in quella terapia intensiva. E questo non ha rimborsi, non ha costo, non ci sono più posti per quelli che si ammalano di qualcosa d'altro. E questo è vergognoso. Quindi fate campagna tutti insieme perché si faccia la terza dose e si aumenti la probabilità di vaccinati. Con questo chiuso il mio appello. domande, fate domande a Marco, io ne avrei tante altre ma adesso precedenza a voi. Chi io non vedo tanto, adesso vi vedo un po' meglio. Chi comincia? No, un signore ha alzato la mano. Sì, laggiù. Mi raccomando, siate brevi così possiamo farne di più e approfittare di più della presenza di Marco. Buongiorno, sono Lucio. Premessa è che conosco il 5% di ciò che esiste nella realtà. Questa è la premessa. Per quanto riguarda lo scopo, lo scopo della vita in generale, quindi dell'uomo, dell'animale, del catena alimentare anche degli animali. Sembra che vada molto lontano ma sono molto breve. Per il cucciolo, duomo, di animale, dell'orso, del predatore, del predato, è la sopravvivenza singola e di specie, ma è anche un orientamento per sopravvivere e quindi per dire, io se sono un delfino educo i miei, chiamiamoli impropriamente cuccioli, gli avannotti, non saprei la parola giusta, quindi perdonatemi, a diffidare dalle specie che ci sono nel mare sconosciute. Quindi c'è una scelta tra il bene e il male. Ciò che ti fa male lo eviti, ciò che ti fa bene i genitori ti aiutano a discernerlo. Ora, tra le tante teorie che ci sono, sia filosofiche che anche scientifiche probabilistiche, eccetera, c'è chi propugna il fatto che non ci sia scopo. Anche nel fatto, io questo ho confusione nella mente che la evoluzione, in fin dei conti, sia quasi, come dire, non la capisco bene fino in fondo. Sempre perché io conosco solo il 5% e tutto il resto, il 95%, è fuori dal mio controllo, quindi dalla mia razionalità e dalla mia conoscenza. La domanda è, ma la probabilità non si può scindere dal sé? Sì, perché lei l'ha sempre detto, probabilità non c'è certezza, ma c'è probabilità di futuro. Allora, il sé così piccolo, ma è potentemente condizionante sulla risposta finale. Certezze non ce n'è. Ora, io dico, ho fatto il terzo vaccino, sono entusiasta del fatto che adesso ci sono delle nuove, come dire, tecnologie che mi aiutano a sopravvivere. Ma che risposta do all'evoluzione? La soluzione finale è l'evoluzionismo di per se stesso o c'è uno scopo per cui si sceglie il bene o si sceglie il male? Scusate la strana domanda. Ah, qua ti voglio, perché il concetto di finalità è di fine. Il concetto di finalità. Provo a rispondere, credo che tu sia più adatto eventualmente a rispondere, ma se prendiamo l'evoluzione di per sé, l'evoluzione non ha uno scopo. L'evoluzione è semplicemente la combinazione di fattori che ci hanno portato fino qua. Se noi prendiamo, se diciamo, noi fossimo stati costruiti con uno scopo ben preciso, se l'uomo avesse uno scopo ben preciso, mi si dovrebbe spiegare quale scopo perverso ha costruito il mio corpo in una maniera talmente curiosa da avere i nervi che portano dagli occhi al cervello incrociati fra loro, oppure nervi che, diciamo, si dipartono dal cervello, passano sotto il cuore, fanno il giro e ritornano indietro. Oppure per quale motivo ho ancora una parte del corpo che serve per reggere una coda che ho perso presumibilmente da tempo? Oppure perché ho delle valvole che impediscono al sangue di defluire correttamente nelle gambe ma non ce le ho nell'addome? Se si guarda, diciamo, se si pensa, lo scopo dell'uomo è quello di camminare in posizione retta e di guardare lontano, beh, l'uomo è costruito veramente male da questo punto di vista. Per quanto riguarda lo scopo, lei usa la parola scopo, ma scopo è un concetto, esattamente come libertà, esattamente come altri concetti, che viene dalla capacità della nostra mente di dare un significato a quello che abbiamo intorno. lo stesso fatto che lo scopo mio, lo scopo di Telmo, lo scopo suo, lo scopo di tutti noi nella vita sia diverso, beh, molto probabilmente sono tutti modi in cui la nostra mente si è differenziata sempre per massimizzare quello che si diceva prima, la sopravvivenza e la propagazione della specie. Cioè, un esempio che le faccio, ci penso spesso, si parlava prima dei comportamenti evolutivi vantaggiosi. Che senso ha guardare lo sport in televisione, cosa che la gran parte di noi fa? Beh, io mi immagino questo, quando eravamo, appunto, quando siamo scesi dagli alberi o quando stavamo scendendo dagli alberi, chi di noi guardava le contese fra il gruppo di URG e il gruppo di ARG, era in grado di scegliere il gruppo più forte. Quello migliore, magari quelli di noi, come me, diciamo, non portati al combattimento e all'aggressione fisica, guardavano fra il gruppo ARG e il gruppo URG e dicevano, questi sono più forti. Quelli che lo guardavano, che avevano, che si sono costruiti dei concetti mentali che distinguevano il più forte dal più debole, probabilmente io sono figlio di quelli. Noi siamo figli di quelli che guardavano lo sport all'epoca, non in televisione, all'epoca lo sport era più simile al calcio fiorentino che a quello di oggi, però ci siamo evoluti e siamo figli di quelli lì. Gli intellettuali che sbucciavano la banana e discertavano fra loro sul gusto della banana, beh, non hanno avuto discendenti perché hanno scelto magari la parte sbagliata. È molto difficile spiegare l'evoluzione in termini di scopo e quindi credo che sia fondamentalmente sbagliato, però credo che Telmo sia molto più portato di me sull'argomento per rispondere. No, sono d'accordissimo, è così. La spiegazione evoluzionistica è incompatibile con l'idea di scopo. Il scopo di finalità fa parte della nostra mente, è appunto un concetto elaborato da noi. Solo aggiungo due altri trucchi che vi consiglio di utilizzare, nei quali spesso cadiamo. Se io dico che il cuore serve per pompare il sangue, questa è la funzione di quell'oga, non è il suo fine. Il fine è un concetto molto più forte, aristotelico, no? Il fine vuol dire che qualcuno l'ha costruito con in mente la funzione finale che avrà, no? Quindi è una mente che intenzionalmente progetta qualcosa per un fine, ok? Quindi è un concetto molto forte dal punto di vista filosofico. In realtà il cuore ha la funzione di pompare il sangue che è dovuta a un processo evolutivo che ha determinato un crescente vantaggio in una certa struttura, no? Per assolvere una funzione. Quindi un suggerimento, distinguete bene funzione da fine. Anche se molto spesso, anche i miei colleghi spesso dicono, ah ma il fine di, lo scopo di questo organo è. No, è la sua funzione, è una cosa diversa. L'altro trick, l'altro trucco è sull'ignoranza, no? Giustamente diceva, forse facendo riferimento a energia, materia oscura. Noi conosciamo solo il 5% dell'universo. È vero, però attenzione, non è che siccome non conosciamo il 95%, non possiamo essere ragionevolmente sicuri su quello che abbiamo capito sul 5%, ok? Cioè l'ignoranza sul resto non è che automaticamente genera un'ignoranza sul 5%. Quindi come ha detto una mia collega di Harvard, molto brava, il fatto che non sappiamo un sacco di cose non significa che non dobbiamo fidarci su quelle che sappiamo, ok? Quindi anche questo è un trucco mentale che spesso ci inganna un po'. Altre domande? Eccola là, qui alla mia estrema sinistra. Buongiorno, sono Tacca. Io vorrei riprendere, a parte il concetto della cerniera, che io ho la doppia cerniera e dopo dieci volte che magari sacramento con me stesso riesco magari a sistemarla. Il concetto del pensiero veloce, pensiero lento. Beh, insomma, se sento un rumore le tre di notte, magari mi affaccio e la prima cosa che mi viene in mente è un ladro. Poi guardo bene, magari ragionandoci un attimo, calmandomi un secondo, vedo che ne so, è un cartello stradale che è caduto perché il vento l'ho buttato giù. Ma se mi dovesse capitare per strada che subisco uno scippo, insomma, lì è difficile distinguere il pensiero veloce dal pensiero ragionato. Lì c'è solo l'istinto che ti preoccupa, c'è solo l'istinto che ti porta come conseguenza a reagire immediatamente, cioè quello che ti capita, a quello che ti viene in mente al momento, quello che riesci a fare al momento. Grazie. Grazie, grazie a lei. Allora, è molto importante dire questa cosa perché noi stiamo parlando di usare il ragionamento, cioè il pensiero lento, in ambito scientifico. Se noi dovessimo usare il ragionamento in ogni ambito della nostra vita, beh, anche solo guidare un'automobile sarebbe un casino perché qualcuno frena davanti a me e io dico bene, adesso stacco il piede dall'acceleratore, lo pongo sul freno e contemporaneamente lo tampono. Cioè, in gran parte delle azioni della nostra vita il pensiero veloce, l'istinto è fondamentale. Qual è la trappola dell'istinto? che molto spesso lo usiamo quando non dovremmo usarlo, cioè nel pensiero, nell'analizzare quelli che sono dati scientifici. Le faccio un esempio, anche qui, un esperimento molto bello che è stato fatto qualche anno fa in Nuova Zelanda, scusatemi, negli Stati Uniti, perché hanno fatto vedere a degli studenti dei volti e hanno chiesto loro di dare un voto, cioè di comportarsi come se fossero a delle elezioni. Gli dicevano questo è il candidato del partito blu, questo del partito rosso, questo del partito verde, dai il tuo voto e dai un rango. Quindi primo, secondo, terzo, quarto, quinto. E quello che non sapevano gli studenti, dopo che hanno redatto la loro classifica, è che quelli non erano dei volti a caso, erano i volti dei candidati alla carica di premier in Nuova Zelanda. E l'esito delle votazioni degli studenti è stato esattamente quello degli elettori neozelandesi. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Solo che questi avevano votato solo sulla base di volti, di facce, di fotografie. Ecco, questo esperimento era in corso di replicazione in varie università, ma ha un'implicazione terrificante se uno ci pensa. Cioè, davvero noi usiamo l'istinto quando andiamo a votare? È una possibilità che prenderei seriamente in considerazione. Quello che diciamo noi, quello che dico io, non è bisogna sempre ragionare, è stiamo attenti a usare il ragionamento, diciamo, il pensiero veloce quando serve il pensiero veloce e quello lento quando serve il pensiero lento. Mettiamo in guardia sul pensiero veloce perché è più veloce, quindi è più, ecco, è il primo che entra, è il primo che si instaura e occorre una certa capacità di controllo per dire forse non è il momento adesso di agire distinto, ma in certe situazioni agire distinto è, diciamo, è necessario per la sopravvivenza. Un'ultimissima domanda veloce, se c'è, e poi dobbiamo lasciare. Sono due, le facciamo tutte insieme, però veloci. Prego. Sono Marco, volevo solo fare questo commento, ho da poco finito la lettura di un libro, quello di Quammen sullo spillover, che consiglio solo agli stomaci forti, e mi era segnato questo commento, che le società moderne hanno perso un patrimonio di conoscenze condivise, acquisite lentamente per tentative ed errori, e oggi dipendiamo totalmente da medici e scienziati. Solo per sottolineare che c'è, secondo me, nelle persone un grande bisogno di riappropriarsi del senso del mondo, e se non ce la fanno capire la scienza, si attaccano eventualmente a un pensiero magico. Non è per giustificarli, ma accade questo, ed è una cosa di cui da tenere presente. sarebbe molto facile, come nell'esempio della zip, poter dire, no, ti spiego tutti i meccanismi, le leve, dicendo semplicemente, ma vuoi sapere come funziona la zip? Te lo faccio vedere, solo che si va nell'oscenità, naturalmente, tirandoci giù la zip. Non è così facile per la scienza. Faccio anche la zip qua. Adesso li fanno quei bottoni, che è un casino, soprattutto per chi soffre di prostata è un disastro. No, invece volevo dire che il libro di Cuomo, leggetelo tutti, perché finisce con una previsione, dove dice, è del 2012, la prossima grande pandemia sarà fatta così, ed è una previsione esattamente come quelle che Marco Malvaldi ha descritto prima. Sarà un coronavirus, verrà dalla Cina, avrà molti asintomatici, da un pipistrello, però farà il salto di specie in un'altra... Cioè, otto caratteristiche le ha azzeccate tutte e otto. Quindi noi le previsioni scientifiche non le ascoltiamo. C'era una domanda qua in prima fila, però, velocemente, poi lasciamo l'ultima parola a Marco. Qui, grazie mille. Grazie mille per l'intervento, Carmen. Da economista ho apprezzato fortemente la distinzione tra correlazione e causalità, che distingue quindi l'importanza di individuare i meccanismi dei vari fenomeni. Ma, al di là di tutti, insomma, i tecnicismi che sono stati ampiamente dettagliati, mi incuriosiva avere un suo parere in merito al fatto di come oggi, che sostanzialmente è più semplice avere accesso ai dati, quindi dovrebbe garantire una maggiore possibilità di costituirsi un po' un'idea su basi di dati, ovviamente, letti con quella sensibilità. Perché, invece, tendiamo ad accettare ancora più fortemente il concetto di correlazione, a volte, appunto, assurdo. Chiudo le gelaterie perché, se no, ci sono gli incendi. Che, appunto, la conoscenza dovrebbe essere più accessibile. Continuiamo, invece, a credere ancora di più alla correlazione rispetto alla causalità. Curiosità. Io credo, questa è una bella domanda, e quella che do è chiaramente una opinione, attenzione, quindi non è... Credo che la facilità di accesso ai dati renda possibile un giochino perverso, per cui tu scegli, tra i dati a disposizione, quelli che vanno d'accordo con il tuo pensiero. È un po' come quando andiamo in edicola e compriamo il giornale che ci dice, che dice esattamente, è incredibilmente d'accordo con quello che pensiamo noi. Con una disposizione di dati così ampia rende possibile usare i dati come quando si va al supermercato. Io prendo questo, prendo questo, gli spinaci no perché mi fanno schifo. Dopodiché sono in grado di costruire un ragionamento coerente usando dati, proprio perché questa messe di dati mi rende possibile selezionarli, prenderli e accordarli al mio pensiero. Cioè, il concetto è che io faccio l'operazione opposta a quella che va fatta a livello scientifico, cioè cerco dati che verifichino il mio pensiero, invece di cercare di attaccarlo senza pietà. Perché la cosa importante quando si fa scienza, quando si costruiscono modelli, non è cercare dati, cercare situazioni che verifichino il mio pensiero. Quello è sin troppo facile. Se il mio pensiero è quello, significa che già c'è una situazione che lo porta. Devo tentare di troncargli le gambe, perché se non ci riesco, ogni volta che non ci riesco, ogni volta che non riesco a falsificarlo, mi rendo conto che è robusto. È proprio una questione di pensiero. Con la facilità di accesso ai dati si usano i dati esattamente come si va al supermercato e non è esattamente così. Grazie. Abbiamo fatto manutenzione del pensiero. Grazie Marco Malvaldi. Grazie Telmo. Grazie a tutti voi. Certo, certo. Marco Malvaldi è a disposizione vostra adesso e chi volesse per la firma copia dei suoi libri. Ci vediamo domenica prossima con Sivia Bencivelli e parliamo di fake news e di comunicazione e informazione. A presto, buona domenica.